I grandi mangiate? Ma chi lei fuci da mangiare? Un toro? Occio, occio, chi che... Oma, oma, ragazzi? Ma chi mi ha parlato? Ma che cazzo ha fatto su? Non lo so, ma secondo me si è cagato. Ma no, d'ora di vedere le mie c'è. Senta che la camisa lei c'è da quando le vedi, quando lo mi spai prende? Beh, poi cosa dice lì? Che ha mangiato tanto. È vero, secondo te Claudio. Che ha mangiato tanto... Ma magari Gabriele, magari mangia un piatto e bevi. Perché capitavi te nella mia zè. Allora dopo, prima di andare via, la scrivo qui. Cosa li scrivi su? Chi che vuoi mangiare sa mi cosa vuoi dire. Ah, ma non gli dico cosa vuoi dire. Cosa vere. Cosa vere. Cosa vere. Città bellissima. L'hotel, nella camera del bergo, c'era troppo caldo. Io scrivo le cose vere. E' ben così che devi fare. Ma non è che mi critico. L'operazione è buona però. L'operazione è buona. L'operazione ti sono piaciute quelle robe dolci? Io dico, guarda che a volte... T'ho beccato. T'ho beccato da stavolta. Bravo, bravo. Oh, è così va bene. Boh, schiudo? Sì.